Luigi ha 60 anni, è troppo giovane per andare in pensione, ma è anche troppo vecchio per un nuovo lavoro. Luigi è malato, ha l'asbestosi, una malattia cronica che colpisce i polmoni quando si respirano per troppo tempo le fibre di amianto e Luigi purtroppo le ha respirate per ben 35 anni. Per uno strano inghippo burocratico però non riesce ad accedere alla pensione a cui avrebbe diritto e per questo è costretto a vivere in un camper senza elettricità, senza acqua corrente e per mangiare dipende dal cibo che gli dà la Caritas. Questa è l'istantanea che avrei potuto scattare di Luigi quando l'ho conosciuto e ho deciso di raccontare la sua storia. Siamo andati a incontrarlo, abbiamo passato un po' di tempo con lui e abbiamo fatto vedere a tutti come viveva e per quale assurda situazione. Poi ovviamente siamo andati da chi di dovere e indovinate un po'? Nel giro di un paio di settimane a Luigi è arrivata la pensione, la sua situazione si era sbloccata. Ci siamo sentiti, abbiamo fatto una videochiamata e gli ho chiesto, Luigi ma allora adesso qual è la prima cosa che farai? E lui con gli occhi che sorridevano mi ha detto, Alice vorrei per una volta fare una cena vera, voglio andare al ristorante con i soldi della pensione. Quello è stato il momento in cui ho capito che il mio lavoro, se fatto bene, ha davvero il potere di cambiare le cose e di avere un impatto sulla vita delle persone. Questo non significa sempre trovare una soluzione, ma piantare dei piccoli semini, creare consapevolezza, fare buona informazione e poi piano piano spingere verso un cambiamento. Pensate a quanto è importante oggi parlare di ambiente, pensate a quanto è importante parlarne in maniera precisa, puntuale, parlare di crisi climatica. Ecco, questi sono temi ambientali, nel senso vero della parola, ma non sono lontani dalla storia di Luigi e vedremo perché. Hanno tutti un qualcosa a che fare con la sostenibilità. E oggi vorrei portarvi in un viaggio con me attraverso le storie che il giornalismo racconta e vi vorrei mostrare come quelle storie abbiano il potere di cambiare le vite individuali, ma anche di plasmare il nostro futuro in maniera più responsabile, in maniera sostenibile. Sostenibile è una parola che usiamo molto spesso e letteralmente deriva da sostenere, tenere in alto, difendere, proteggere, conservare. Ecco, penso che un giornalismo sostenibile debba fare proprio questo, debba portare in alto, debba proteggere, difendere, debba evidenziare quei temi umani che oggi meritano tutta la nostra attenzione. Questa è la nostra missione più importante. Parlavamo di crisi climatica, ecco, è così importante parlarne, parlare con le persone e far capire che quello che noi oggi viviamo non è normale, ma è il frutto di una serie di stili di vita, di comportamenti sbagliati che abbiamo avuto nel tempo e che hanno abusato delle risorse del nostro pianeta. E oggi più che mai è importante invertire la rotta. Siamo a forte dei marmi, se qualcuno di voi lo scorso anno più o meno di questi tempi si trovava qua, non può che ricordare quella giornata terribile in cui la Versilia e anche la Liguria sono state spazzate via da ondate di vento e di pioggia fortissime, il downburst, come abbiamo imparato a chiamarlo. E non era la prima volta, perché in realtà già nel 2015 un evento del genere si era abbattuto sulle nostre zone. Erano arrivati i venti a 150 km orari. Ecco, questa consapevolezza crescente che abbiamo nei confronti delle tematiche ambientali, sappiamo quanto è importante prenderci cura del nostro pianeta, salvaguardarlo, il che vuol dire anche salvaguardare le nostre vite e la qualità delle nostre vite. Ecco, tutto questo sicuramente deriva dalle esperienze che facciamo ogni giorno nella vita quotidiana. Viviamo il caldo estremo, subiamo piogge torrenziali da un momento all'altro, però deriva anche da una buona informazione, dalle tante inchieste giornalistiche che negli anni ci hanno mostrato quanto è importante parlare di ambiente, quanto è importante prendercene cura. Ecco, credo che un buon giornalismo dovrebbe fare questo, dovrebbe identificare la causa di un evento, mettere insieme i pezzi, aiutare a ragionare e poi piano piano tracciare un percorso verso un futuro più sostenibile, un futuro migliore. Io non dimenticherò mai il giorno in cui ho ricevuto la segnalazione di Enzo, un abitante di Acerra, in campagna, in piena terra dei fuochi. Posso dire che la sua più che una segnalazione era davvero un grido di aiuto. Lui era esasperato perché come ogni estate, fuori dalla sua finestra, vedeva moltiplicarsi i roghi tossici che avvelenano terra e aria e che ormai lo sappiamo vengono appiccati per smaltire abusivamente i rifiuti. Quello che ci raccontava Enzo era una vera tragedia, però è anche una tragedia vecchia e noi alle tragedie vecchie ci abituiamo. Il pubblico perde interesse, i giornalisti, ahimè, non hanno più niente di nuovo da raccontare. E questo è il motivo per cui non troverete la terra dei fuochi sui giornali, perché non è più una notizia, nel senso letterale, del termine nuovo. In questo caso però abbiamo fatto una scelta. Abbiamo deciso che la storia di Enzo e tutte quelle storie di quelle persone che poi abbiamo conosciuto meritavano una voce proprio perché nessuno gliela stava dando più. Abbiamo scelto l'interesse pubblico invece del pubblico. Così ci siamo trasferiti praticamente per due settimane nella terra dei fuochi. Io insieme a Mauro la autore che ha curato con me questo servizio. E abbiamo dato la caccia ai roghi insieme a Enzo e ai suoi amici volontari, pensate persone che si sono costituite da sole per intercettare questi roghi prima che divampino e che esprimano al massimo il loro potere letale. Ci siamo rifugiati nelle vite di sconosciuti che ci hanno letteralmente aperto le porte di casa loro, perché quando c'è un rogo tossico grande l'aria è respirabile, nevica cenere e tu ti devi nascondere. Noi abbiamo vissuto la terra dei fuochi che c'è, esiste, ancora oggi anche se nei telegiornali probabilmente non ne sentiamo parlare più. E allora per noi la notizia è diventata proprio quella. La terra dei fuochi continua a bruciare, nonostante le inchieste giornalistiche, le inchieste della magistratura, le denunce dei cittadini. Poi ovviamente siamo andati a parlare col ministro dell'ambiente che si trovava in quei territori e gli abbiamo fatto un sacco di domande, perché quello che ho imparato con l'esperienza è che il nostro lavoro consiste nello scegliere delle storie, nel sottoporle a un pubblico, ma poi anche a mostrare a chi di dovere, a chi può davvero cambiare le cose che ci siamo, che monitoriamo gli sviluppi di quella storia, che monitoriamo le promesse fatte. È quello che chiamiamo il cane da guardia della democrazia, che siamo sinceri, l'abbiamo un pochino addomesticato, perché ogni tanto ci dimentichiamo di fare le domande, invece è importante che sia bello sveglio questo cane. Io non posso dire che con quel servizio abbiamo cambiato le cose, però posso dire che abbiamo sostenuto il tentativo di resistere di tutte quelle persone, Enzo, i suoi amici volontari, le mamme dei bambini malati. Abbiamo raccolto la loro lotta, una lotta tenace, e l'abbiamo mostrata a tutti per quello che è, in una catastrofe, quella della terra dei fuochi, che è una catastrofe sanitaria, sociale, economica e anche politica, ancora non risolta. E il pubblico tutto questo lo ha capito. Ci sono arrivate un sacco di mail che ci hanno detto continuate a raccontare. E credo che nel nostro piccolo abbiamo un po' acceso una lucina su una storia dimenticata, in qualche modo un po' accettata. Io ho imparato che ogni cambiamento comincia così, con il racconto di un'ingiustizia, di qualcosa che non va, un piccolo racconto, e poi piano piano insieme cercando di costruire qualcosa di buono. Ovviamente giornalisti e pubblico insieme, perché vi assicuro che noi da soli non bastiamo. E questa cosa l'ho capita in maniera compiuta lo scorso anno, quando mi sono imbattuta in un'altra notizia, del tutto diversa, la notizia di 218 milioni di mascherine prodotte male, inutilizzate. Sono le mascherine che abbiamo prodotto nella primissima ondata del Covid, quando non avevamo nulla da mettere, però non le abbiamo fatte bene, quindi nessuno le ha mai usate. Quelle mascherine ci sono costate tanto, 313 mila euro al mese solo per lo stoccaggio, vuol dire due milioni e mezzo di euro. Così lo scorso anno il generale Figliuolo ha deciso di disfarsene, di bruciarle. Costo di questa operazione altri 700 mila euro. Quando ho letto questa notizia mi sono detta è mai possibile che nel 2022 non ci sia un'alternativa a bruciare delle mascherine, un qualcosa che è un grandissimo spreco e ha anche un impatto ambientale devastante. E abbiamo scoperto in realtà che un'alternativa c'è. Perché al Politecnico di Torino si sono inventati un modo per riciclare queste mascherine, che in teoria non sarebbero riciclabili perché sono fatte di un materiale non biodegradabile. Loro le sminuzzano, aggiungono degli additivi particolari e creano una specie di filo che grazie a una stampante 3D può essere trasformata in un qualunque oggetto di plastica di uso quotidiano. Quindi le mascherine da rifiuto diventano opportunità. E questa cosa si sta già facendo in tante parti del mondo. In Australia con le mascherine costruiscono le strade. È un progetto pilota, però hanno capito che se vengono unite al calcestruzzo quell'asfalto è più elastico, è più stabile. Questa notizia del riciclo ci è sembrata una cosa ganzissima e abbiamo detto facciamo un servizio. Anche perché poi abbiamo scoperto che a Milano esiste un'azienda che fa questo procedimento già su scala industriale e quindi avrebbe anche voluto acquistare le nostre mascherine perché gli servono per lavorarle. Così abbiamo messo tutto dentro un servizio, anzi due, e ovviamente abbiamo cercato di far arrivare questa informazione ai piani alti, alla struttura commissariale. Purtroppo ci hanno risposto che la procedura per identificare l'azienda che poi avrebbe smaltito quelle mascherine si era già avviata, l'azienda era già stata scelta e quindi quelle mascherine sono state bruciate. Ma c'è un però, per fortuna, un bel però. Perché dopo la messa in onda del servizio l'azienda di cui vi parlavo ci ha chiamato dicendo di essere stata subissata di chiamate da parte di aziende, scuole, enti pubblici che avevano una marea di quelle mascherine e purché non venissero bruciate ma riciclate erano disposte addirittura a regalarle. Le persone quindi hanno visto quello che raccontavamo, questo spreco enorme, e hanno risposto. Hanno deciso che in quella storia potevano fare la differenza, potevano fare qualcosa di buono. Ed è così che funziona. Perché noi, senza la vostra indignazione, non andiamo da nessuna parte. Soltanto se lavoriamo insieme con passione, con responsabilità, con convinzione, ognuno facendo la sua parte, potremo costruire o perlomeno tentare di costruire un futuro migliore per tutti. In un momento storico come questo, dove la verità spesso viene messa in discussione, credo sia nostro dovere come giornalisti, come lettori, come cittadini del mondo, combattere per ciò che è buono, per ciò che è bello, per ciò che è vero. La sostenibilità non è soltanto un concetto ambientale. È un impegno verso l'umanità. È un impegno che comincia con ognuno di noi, oggi e ogni giorno. Grazie.